Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Ciao! Eccoci nello spazio dedicato ai bambini e oggi siamo in compagnia di Sergio. Che belli occhiali! Gli occhiaccio! Ma come sei caro? Sta arrivando Natale e siamo nel mese più bello dell'anno! Ma che bello il Natale! Bambini, vi piace il Natale? Scrivete la letterina a Babbo Natale per avere il regalo. Sì, io l'ho fatto! L'hai già fatto? Sì! Wow, che bravo! Occhiaccio un cesto di banale! Mmm! Buone! Senti, ma hai preparato una canzoncina? Sì, l'ho fatto! Vuoi sapere come si chiama? Sì! Allora si chiama il cappello di Babbo Natale! Il cappello di Babbo Natale! Sì! Però, però Mario, oggi mi devi accompagnare... Ti devo accompagnare? Vuoi un passaggio? No! Dicevo! Eh no! Mi devi accompagnare con la chitarra! Ah, con la chitarra! Sì! Va bene, ci provo! Ok, ok, ok! Facciamo accompagnare la chitarra! Uno, due... Ah, che bello, che bello! Bravo Mario! Ok, ok! Canta, canta, canta! Cantare in libertà! Allora, vediamo se me la ricordo! Sì! Perché la conosci? Il cappello di Babbo Natale, famosissima! Ah, ok! Vediamo! Proviamo! Sei pronto? Sì! Andiamo! E qui ci siamo, anche quest'anno? Oh, Natalia ha fatto un danno! Ha smarrito il suo cappello, bianco-rosso, sempre quello! Ma fa foda, a mezzanotte, ma qualcosa qui non va! Sono già pronte, rende slitte, ma il cappello non ci sta! E allora, va qua, dove le guardano, guarda là, guarda su, guarda giù, ma il cappello non c'è più! E allora, guarda qua, guarda là, ma chissà dove sarà! Guarda qua, guarda qua, guarda là, ma chissà dove sarà! Bravissimo! Grazie! Gli è piaciuta? Ha fatto anche una corolla! Ma sei stato bravissimo! Mi sono impegnato, sì! Bravo! Bravo, sei proprio un cantante! Bravo, vero? Sì, sì, sì! Ok, bambini, allora, esercitatevi anche voi a suonare queste canzoni e cantarla e noi ci vediamo! E trovate il cappello di Roma per Natale, mi raccomando! Scrivete le letterine, per Natale, sì! E tutto il resto! Sì, e fate i bravi! Mangiate il panettone? No! Come no? Non mi piace! Da te non piace! No, io sono il banane! Va bene! Ok, va bene, lui è il banane nel panettone! E poi ci vediamo domenica prossima! Ciao! Ciao!